la pazzia di Norman Osborn esplode in quella che è stata una grande saga che è Siege, Assedio in questa grande saga in realtà aveva delle belle premesse ma purtroppo è stata anche questa trattata un po' male diciamo che Secret Invasion e Assedio sono quelle che mi sono piaciute di meno, anzi no, meno ancora mi è piaciuta Fear Itself di cui vi parlerò dopo in questa saga Norman Osborn con un pretesto decide a nome degli Stati Uniti di attaccare Asgard per un piano organizzato con Loki Loki aveva già riuscito a far detronizzare Thor e a mettere al suo posto Balder adesso Loki vuole proprio tutto il cucuzzano, vuole tutto il potere e decide di collaborare con Osborn e di fare un assedio ad Asgard assedio che naturalmente Obama non accetta tenete conto che Norman Osborn a capo della sicurezza è stata l'ultima azione del precedente presidente quindi di Bush quindi Obama già non lo vede di buon occhio comunque sia cosa succede? succede che un gruppo di vendicatori organizzati alla bene e meglio dal redivivo Capitano America si ribella all'azione del gruppo di vendicatori gestita da Norman Osborn Norman Osborn però ha la sua arma segreta ovvero Sentry Sentry voi dovete sapere che oltre a essere potentissimo avere il potere di un milione di soldi che esplodono questa è la frase allegorica che viene utilizzata e anche il peggiore nemico di se stesso perché è anche Void un essere lui è schizofrenico Sentry quindi crea sia il lato positivo che il lato negativo e il lato negativo per certi versi è anche molto più forte e avendo perso il controllo ed essendo controllato da Osborn messo K.O. Osborn lui perde il controllo e neanche l'occhi stesso che si pente delle azioni che ha fatto riesce a mantenere il controllo quindi Loki sentry diventa assolutamente inarrestabile e viene sconfitto con molta difficoltà da Thor che ne decide di bruciare i resti all'interno del sole questo porta gli Stati Uniti a riconsiderare la posizione che avevano sul mondo dei supereroi a dare a Capitano America il ruolo di sicurezza globale Capitano America utilizzerà il ruolo di Steve Rogers quindi diventerà il comandante Rogers quindi con un'identità smascherata viene cancellato definitivamente l'atto di registrazione dei superumani Asgard viene ricostruito comunque un portale verso Asgard viene ricostruito sopra la torre dei Vendicatori tenete conto che prima sopra la torre dei Vendicatori c'era la torre di Sentry e i supereroi ritornano in quella che è la loro Golden Age non mi ricordo come l'hanno chiamata a sede Golden Age comunque non mi ricordo questo periodo il nome pubblicitario che è stato dato comunque morale della favola torna la luce nelle storie dei supereroi e quindi Steve Rogers fonda tre gruppi di Vendicatori crea i Vendicatori segreti che lui gestisce per missioni tra virgolette di controspionaggio missioni che non si devono far sapere crea i Vendicatori classici gli Avengers senza né articoli né new né old né e crea anche i New Avengers i New Avengers sono un gruppo di Vendicatori nelle mani di Luke Cage e in questo periodo tra virgolette ritroviamo le storie un pochettino più solari che non avevamo invece nel regno scuro del periodo di Osborn Osborn comunque tornerà torneranno altri nemici comunque arriviamo a un'altra saga molto molto importante arriviamo a Fear Itself la saga forse dell'ultimi periodi che ho odiato di più in assoluto perché insomma ho trovato veramente difficile digerire comunque sia morale della favola si scopre che il serpente di Midgard il fratello si scopre essere il fratello di Odino ha lanciato nella terra dei martelli dei suoi araldi quindi alcuni personaggi alcuni eroi alcuni nemici dell'universo Marvel diventano araldi della distruzione di questo serpente di questo serpent i vendicatori si uniscono insieme per cercare di sconfiggere la situazione viene distrutto lo scudo di Capitano America che insomma era un po' il simbolo della purezza dei supereroi e Thor si sacrifica poi in realtà anche questo è un sacrificio temporaneo perché poi prima verrà sostituito nelle menti da tutti da Tanabrus che poi in realtà si scopre essere un nemico di Thor poi lui tornerà anche torna anche Loki tornato mi sembra poco prima nelle desti di un bambino innocente Kid Loki e verrà fermata questa enorme cacciara io veramente vi dico poco di questa storia perché non mi ha fatto impazzire da una serie di armature di armi create con l'aiuto di Odino da parte di Iron Man e quindi niente è una saga abbastanza bruttina un'altra cosa importante che succede in questa saga è la morte apparente di Bucky nel ruolo di Capitano America viene ucciso in realtà poi si scopre che è vivo e vegeto e che agisce di nuovo in clandestinità come soldato d'inverno comunque sia Steve Rogers ritorna a essere Capitano America a tutti gli effetti e niente questo diciamo è Fear Itself oltre a Fear Itself ci sono anche altri due filoni importanti il filone dei Fantastici 4 e il filone degli X-Men gli X-Men da quando appunto sono stati decimati hanno iniziato a soprattutto ciclope a diventare molto più duri molto più simili a quello che hanno sempre odiato cioè Magneto e quindi molto più chiusi di loro stessi questo verrà aumentato dal fatto che nasce dopo tanti anni nonostante non ci fosse più nessuna possibilità una bambina mutante una bambina mutante che poi verrà cresciuta nel futuro da Cable che è il figlio del futuro appunto di ciclope quindi la troveremo dopo essere neonata dopo poco tempo già tra virgolette adulta e lei probabilmente sarà questo succede nelle saghe Second Coming e Endangered Species comunque delle saghe di quel periodo del mondo degli X-Men comunque morale della favola Rachel buonanotte Hope questo è il nome che viene dato a questa bambina diventa la possibilità che il mondo dei mutanti ha la possibile la possibile messia del mondo dei mutanti che potrebbe riportare i mutanti a ritornare a nascere e in effetti con i suoi poteri quattro nuovi mutanti mi pare che nascano quelli che poi lei prenderà sotto la sua egida e chiamerà Generation Hope comunque morale della favola il mondo dei mutanti inizia a essere ancora più chiuso Wolverine arriva a fare una guerra una piccola civil war con ciclope perché è contrario ai suoi metodi autoritari nonostante Wolverine abbia fatto parte di un gruppo di assassini segreti per ciclope che si chiamava appunto la X-Force e decide di trasferirsi nella vecchia scuola e di diventare il direttore della nuova scuola Jean Grey per giovani dotati lui diventa il nuovo direttore diventa di nuovo una scuola il mondo degli X-Men e questo è uno sviluppo molto interessante quello di Wolverine che si trova lui che per Xavier era il più ruente il più difficile da controllare riesce a fondare la scuola Xavier la scuola Jean Grey per giovani dotati in omaggio appunto alla sua amata Jean Grey finisce morta molto prima quindi il mondo dei mutanti si scinde e si arriva poi appunto a quelli che sono gli sviluppi moderni cioè a Vendicatori contro X-Men che è la saga che sta per uscire che vi consiglio di recuperare concludo facendo una piccola nota mi è venuta in mente adesso su quello che invece è stata la situazione di Devil dopo il periodo di Brubaker Devil per un certo periodo viene posseduto da uno spirito demoniaco che lo rende malvagio gli fa uccidere Bullseye lo rende incontrollabile gli fa creare Shadowland cioè un enorme pagoda all'interno di New York nel quartiere di Hell's Kitchen dove lui possa controllare le attività criminali e tra virgolette farle viene liberato da questo spirito demoniaco per un certo periodo viaggia per gli Stati Uniti alla ricerca di se stesso per poi ritornare rindigorito e cambiato da questa esperienza e tornare un Devil più allegro rispetto alle atmosfere in cui ci avevano abituato Bendis Miller prima ancora eccetera eccetera e anche l'ultimo paragrafo che ho abbastanza trascurato è quello dei Fantastici Quattro perché i Fantastici Quattro si sono trovati per un breve periodo con uno dei loro membri ucciso stiamo parlando della torcia umana e hanno tra virgolette sbaraccato i Fantastici Quattro e il gruppo e l'hanno trasformato in Future Foundation cioè una fondazione di giovani menti tra cui appunto anche i figli di Reed e di Sue Storm unite per insomma per un futuro migliore e nel gruppo di azione al posto di Johnny Storm della torcia umana hanno messo appunto l'uomo ragno per volontà espressa appunto da dal buon dal buon dal buon Johnny prima di morire poi in realtà scopriremo che Johnny è sì morto ma è stato anche risuscitato e quindi si ritornerà allo status quo dei Fantastici Quattro ho molto riassunto anche qua l'aspetto dei Fantastici Quattro perché ammetto di averlo seguito marginalmente però vi posso dire che è molto molto bello probabilmente ho dimenticato qualcosa un po' trascurato appunto i Fantastici Quattro il mondo mutante non sono andato troppo nel dettaglio nel mondo dell'uomo ragno sul come viene spiegata il fatto che tutti quanti abbiano dimenticato la sua identità segreta comunque questa era un'infarinatura generale pensate un'infarinatura generale un'ora e zero quattro di video cercherò appunto di dividerlo in tanti di spezzettoni questo è un invito al diciamo al sviluppare a cercarsi gli albi per i fatti propri per adesso è tutto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti